Ciao ragazzacci, io sono lalalalalalalalalalalalalalala Ok, ho detto così perché voi sapete che i Minion parlano una lingua tutta loro e quindi, boh, andatevi a rivedere gli episodi vecchi per sapere quello che dico di solito Allora, lalalalalala, ok, non devo smettere di imitare i Minion peraltro non li so imitare, quindi sono uno scarso imitatore di Minion quindi partiamo subito col nostro autobus senza perderci troppo in chiacchiere Allora, oggi andremo verso Freibug Freibug? Non so come si pronuncia Accendiamo, inizia l'accensione, ok, avvia il motore Ok, motore acceso, diamo una sgasata sempre all'inizio per farlo partire Mettiamo l'aria condizionata, mettiamo 20 gradi, ok, 22 Mantieni il freno premuto, ok, e poi mettiamo la marcia in avanti Perfetto, rilascio il freno di stanzionamento, no, ti calmi, ti calmi prima di ogni cosa Prima di ogni cosa attiviamo come sempre i bagni, ok Attiviamo anche le luci di lettura per le persone che saliranno appena arriveremo Attiviamo il wifi, attiviamo anche la cucina e attiviamo anche questo Questi qui sono display passeggero acceso, ok, così sanno dove stiamo arrivando E dove dobbiamo andare, l'aria condizionata era acceso Premiamo quest'altro pulsante, benzina ce n'è, c'è tutto quanto, ok Attiviamo il filtro antiparticolato automatico Questi qua sono già accesi Questi qua sono i freni addiraudici L'ASR, lo lascerei on o off Non so, non so come funziona questo Ad sospensioni, no, ok Poi premiamo qui, posso fare Riscaldamento specchietti acceso, l'ho attivo Riscaldamenti per abbrezzo, l'ho attivo pure Luce conducente non mi interessa Apri il finestrino, no? Abbassa tendine a parasole Ok, abbassa Ah, devo tenere schiacciato Uh, che figata Uh, che figata Quanto devo, posso abbassarla Ok, ok Dispredi di stiazione, no, lo accendi, sì Però fammi vedere quanto me l'hai attivata Oh, caspita No, me l'hai attivata troppo, me l'hai attivata Scusi, quanto me l'ha abbassata No, no, aspetta, questa qui è figata No, aspetta, questo accendilo Alzami la tendina Ok, me la metti giusto un pochino Giusto un pochino così mi piace Giusto per avercela quel minimo necessario E tutto quanto Vi faccio vedere anche la livrea Guardatevi Lo so che è fastidioso Ma lo farò sempre Fate un rumore Fammi vedere un rumore fastidioso Ok, l'ho fatto così Vi ho fatto diventare mati Però Ok, cerchiamo di diventare seri Cerchiamo di diventare Bello La tendina però è troppo in alto Vabbè, comunque non ci interessava tantissima tendina Dobbiamo andare verso la sede Dove prendere i nostri I nostri primi clienti Togliamo il freno a mano Acceleriamo E partiamo Le luci li ho accese Li ho accese le luci Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta che Certe volte mi scordo qualcosa Luce accese Il telefono Il telefono Faccio il login Visto che sono qui Faccio il login adesso Che così me lo tolgo Potevo farlo anche dopo Ma Intanto prima o dopo Lo devi fare Quindi andiamo E partiamo Ok, fammi aprire Aprimi qua il cancello Buongiorno Ok, il clacson più brutto del mondo C'è questo gioco Allora, lì ce l'ho Lì ce l'ho Ok Andiamo 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 Di qua viene qualcuno Sì, di qua c'è la macchina Di qua c'è un po' di macchine Ok, vediamo un po' Se mi fanno infilare Va bene Noi a Stuttgart ci siamo già passati Più di una volta E niente Comunque Stuttgart è abbastanza vicino Dove devo andare io Eh, come ho già detto Nella scorsa puntata Proverò a fare dei video Con una tratta più breve Ma che siano Più, più gestibili Senza essere troppo Uh, che caspita fai? Che caspita stai facendo? Che caspita Mi ha frenato davanti quello Quello rischiava veramente Ha rischiavuto Voleva fare l'incidente Per farsi pagare da assicurazione Ed era colpa mia Perché non avevo rispettato Il limite Non avevo rispettato La distanza Non il limite La distanza è sicurezza Oh, guarda questo Scusi Ok Ci siamo Qui hanno passato Del ghiaccio Mi sembra Non del ghiaccio Il sale contro il ghiaccio Quindi qua c'è del sale contro il ghiaccio Va bene, va bene Quindi rallenta di qua Dobbiamo andare qui sulla sinistra Vediamo se quella macchina si sposta C'è un camion in mezzo Ok Mi fate infilare gentilmente Gentilmente Mi dovete fare infilare Ok Questi qua non si fanno Quando avete il mezzo grosso Dovete essere un po' Più più potenti Su strada Dovete prendervi la strada La strada non è che vai a regalano Allora andiamo di qua Quindi il freno Ho acceso anche Ho acceso il riscaldamento Lo sbrinamento Per i Come si chiamano Per i specchietti Fighissimo Non sapevo di avere questa possibilità Buongiorno Guarda come si muovono come formichine Sembrano delle formichine assurde Allora mettiamo la retromarcia Attiviamo questo Apriamo la porta E scendiamo Nino 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 Sì lo so Sono fastidioso Però io sono Agnes Del film dei Minions Non so se avete visto il film dei Minions Ma adesso ne riparliamo Freiburg Noi dobbiamo andare a Freiburg Sì Noi Freiburg andiamo Ciao 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 Tua sorella Certo ciao Chi ti conosce Freiburg Sì Andiamo a Freiburg Tu Come che ti chiami Freiburg Sì Freiburg puoi salire Senza problemi Non c'è bisogno di fare il controllo prioritario Ti riconosco subito Ti riconosco Mascherina Andiamo di qua Freiburg Lo vedi qua Io sono una persona precisa Ormai Questo gioco qui Per me non ha segreti Non vedo l'ora che escono i DLC Con le mappe Per portarvi nuove mappe Perché hanno detto che uscirà Austria e Svizzera Prima poi Francia Quindi sarà Sarà veramente carino Sarà Poi ci saranno le mappe mod Che io quelle là Le aspetto tantissimo Le mappe mod Le aspetto veramente Buongiorno Buongiorno Anche se è molto strano Non vorrei farla Si muove in maniera ubriaco Quello è ubriaco La signora è accaldata Saga 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 pure Saga Lei Freiburg Perfetto Tutti quanti devono venire con me Freiburg Ok Qualcuno c'è scritto Freiburg Qualcuno Freiburg Bushanoff 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 Forse vuol dire Fermata degli autobus Saga Saga Ok Li ho presi tutti Li ho presi Li ho presi tutti Andiamo a chiudere i minion Saliamo qui sopra Io spero che anche questa livrea Mi piaccia Mi piaccia soprattutto perché Provo a portargli Ogni puntata Una livrea diversa Perché è carino È carino E niente Io sono abbastanza esaurito Allora teniamo qui Freccia E infiliamoci Non c'è nessuno Vai Ah no Devo mettere una marcia prima Ok stavo sgasando senza marcia E ovviamente L'autobus non camminava È ovvio che non camminasse Prima Siamo già di quinta Ok Fammi girare Attento 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 La curva è abbastanza difficile da fare Viene qualcuno Mi ci posso infilare Ok Facciamo così E andiamo Ci siamo Ci siamo Allora dobbiamo andare verso Freiburg Allora c'è vicino a Freiburg Una città Che si chiama Costanz Cosa del genere Oh Che cazzo fai Costanz Una cosa del genere Non mi ricordo Com'è che si chiama E c'è questa città Che io non riesco a capire Se devo Come cliccarla Perché non me la fa cliccare Penso che ci sia un minimo bug Sulla Sulla mappa E quindi È così È così a sud Questa Come si chiama Questa città Che non me la fa cliccare Intanto che Siamo fermi qua Vi faccio vedere Questo era Fastidiosissimo E credo fosse In Cattivissimo Me Du Non lo so Non me lo ricordo Però C'era Però c'era Me lo ricordo tantissimo Che era fastidiosissimo E quanti sono carini Io non so Cosa fareste voi Con un esercito di minions Sempre sotto il vostro controllo Peraltro è uscito il film Dei minions Hanno fatto vedere Come hanno fatto I minions Arrivare a Gru Gru sarebbe Quello lì con il naso Il cattivo Insomma Il cattivo Si chiama Gru Si chiama Andiamo E dai però Tua sorella Già il semaforo dura tanto Qui Tu ti fermi pure Il cattivo Che le ha presi Le ha portati con sé Peraltro Gru È cattivo Ma non è così cattivo Come ci vogliono far credere Nel film Perché comunque Gru si ricorda In nome di tutti I suoi Minions Li saluta Gli chiede della famiglia Dei figli E questa è una scena Che molti non hanno Non hanno colto tantissimo Però Secondo me Lui non è il capo È È un leader È il leader Andiamo però Tu tre quarti d'ora Ogni volta È un leader Di questo gruppo Il leader È diverso dal capo Il capo È leader Allora E come ve lo spiego Il leader È quella persona Che è sì A capo di un gruppo Però essendo leader Lui È vicino Alle persone Che formano il suo gruppo E questa è una cosa Che si vede molto Si vede dentro Dentro ai Minions Perché Gru è il leader In quanto Gli chiede come stanno Come non stanno Cioè È una cosa di differenza Fra un capo E un leader È secondo me Come questa persona Che comunque sotto di sé Ha un gruppo Tratta quelle persone E diciamo che Gru Tenta di trattarli Sempre al meglio Poi i Minions Comunque hanno un'indole Come dire Un po' Un po' Ribellina Cioè Un po' Sono un po' Così strani Sono un po' Strani si può dire I Minions Diciamo che Già il fatto che sono colorati di giallo Non è che proprio stiano bene Forse quando Il colore è giallo E forse non mi funziona il fegato Oppure Non lo so Banana Ok Questo video sarà veramente difficile Anche per me da fare Perché adesso mi sto ricordando Il film dei Minions Ed è un po' Che non Che l'ho visto Oh guarda questo Questo qui comunque oggi Non parte ai semafori Questi sono i piccoli problemi Che ci sono nella beta Che purtroppo ci dobbiamo tenere Arriviamo di qua Spero di Allora Questa uscita qui Dovrebbe essere bloccata Dovrebbe essere quella bloccata Uh Non andai troppo forte Che quasi lamentano Che era bellezza Dimmi che è verde Tutti i semafori rossi Lì stanno facendo dei lavori Buono Qui com'era bloccata La vedi Questa qui è la strada bloccata Questa strada qui Da Stuttgart L'abbiamo fatta diverse volte Ed è sempre bloccata Sono andata a cercare C'è scritto che l'unico modo Per Per come dire Aggirare Aggirare Questo Quest'ostacolo E Guardare sulla mappa Andare un po' a fortuna E scusi E qua io non ci sono per lei Scusi Le corna che c'è in testa No glielo mette Aggirare Tutto Fare tutto il giro E Sperare Sperare E' così E purtroppo è così Questa parte qui E' un po' No E' che ci vorrebbe Che subito Perché voi Qualcuno mi aveva detto Guarda che quel blocco lì E' un evento del gioco Non è un evento del gioco Quello è proprio bloccata Ce l'hanno tutti bloccati Un evento è una cosa È una cosa casuale Questo invece è proprio Sempre bloccata Quando tu passi passi Sempre bloccata Secondo me Quella parte di strada Non l'hanno Non l'hanno ancora Costruita Rifatta Messa a punto Non so come dirvelo Non l'hanno ancora Aggiunta Allora Io avevo sistemato Sì avevo sistemato Qui il semaforo più lungo del mondo Che fa Mi fa stare tra quattro ore E io ho Di questi semafori Quei nel gioco Durano veramente tanto Durano veramente tanto E poi mi portano A divagare A far vedere Tipo La mia livrea Bellissima Mai nella vita Guarda che figa Ah devo partire Devo partire Partiamo subito Che figata è La livrea così Quanto può essere bella Anche vista da fuori Questo gioco mi piace Graficamente Poi Promette bene Non è perfetto Ragazzi Perfetto Giochi perfetti Io è da un po' Che non vedo Un gioco perfetto È da un bel po' Che non vedo Un gioco perfetto Un gioco perfetto Non lo vedo Da tantissimo tempo Non so perché Da un certo punto in poi Della vita Della vita dei videogames Quindi diciamo che Il primo videogames Quanto sarà Degli anni Ottanta Il primo videogames Allora perché C'erano dei computer Ma usati come In ambito casalingo Parliamo del Settanta Fine settanta Ottanta Io adesso non so Quando è stato Il primo computer Per casa Con cui si poteva giocare Non ne ho la più pallida idea Ho una console Per giocare Adesso mi viene in mente Una vecchia Atari Non ho memoria Della data precisa Però C'è a un certo momento I videogiochi In un certo momento in poi I videogiochi hanno preso Ad essere Buggati Ad avere Cioè ce l'avevano anche prima Però prima Non c'era Come dire Non c'era l'ausilio Di internet Quindi non c'erano Delle patch Tu che dovevi fare Dovevi fare un gioco Fatto bene E niente Le persone Prendevano questo gioco E lo trovavano Diciamo Al 90% 95% Perfetto Oggi invece C'è l'abitudine Di rilasciare Un'abitudine Molto negativa Secondo me Per il mondo Dei videogames Dei giochi Al 50% Perfetti Poi se il gioco Ha problemi Tanto c'è internet Scaricano la patch E perché Perché non lo provano prima Sarebbe semplicissimo Tutte le case Almeno le più grandi Perché io non voglio parlare Delle case Delle software house Indie Quelle piccole case Che producono Giochi veramente belli Ma le grandi case Possono sicuramente Pagare Una decina Di videogiocatori Per fargli provare Un gioco Perché un videogiocatore È una persona strana È una persona strana È una persona che Per esempio Io non ho mai avuto Questo istinto Però un videogiocatore Un tester Dovrebbe per esempio Prendere l'autobus E andare su quella montagna Per vedere quello che succede Io non ho mai avuto Questo istinto Di Io seguo le regole del gioco Però tu devi testare il gioco Lì dove gli sviluppatori Non l'hanno pensato Quello è un tester buono Quello è un Un gran tester Poi una volta Una volta cosa succedeva Una volta i giochi Erano Avevano un codice sorgente Se non sbaglio I vecchi giochi Venivano rilasciati Come codice sorgente Quindi metti il caso Che c'era un bug Tu intervenivi E una volta Il videogiocatore Era anche un mini programmatore O un mini Un mini Mini programmatore sicuro Perché se un gioco Non funzionava Non c'è nessun funzionamento Sono io che sto facendo La curva Non ti lamentare Come sempre Il videogiocatore Era uno che se ne intendeva Un minimo di codice E se qualcosa non andava L'andavo a modificare Quindi una volta C'era anche questa possibilità Che oggi hanno tolta Io sono anche D'accordo Sul fatto che l'abbiano tolta Perché Perché comunque In quel caso lì Tu non Vedi il codice sorgente Di un gioco Lo ricopi Lo rifai uguale Una volta si faceva Adesso Diciamo che è un po' più brutto Cioè Tu Sei olti limiti La velocità E se Moralento Moralento Non ti lamentare Prima è 80 100 Poi 50 C'è il mio camion di Scania Di Aerotrack Ok Andiamo E poi è 50 E che caspita E che cos'è Poi c'è Vedi qua è stupido E c'è 50 100 70 Non mi fa capire niente Certe volte mi fa esaurire Questo gioco E quindi una volta Era diverso E i giochi erano Sì Erano Secondo me Più puliti Erano Uscivano più puliti Perché non c'era possibilità Di correggere In corso d'opera Quindi il gioco doveva uscire Doveva uscire Fatto bene Che poi c'erano i bug Anche lì Ma erano più difficili da trovare Oggi Forse con le troppe Funzionalità Che inseriscono in un gioco Non le testano Forse tutte Questi giochi Escono Escono male Escono male A me dispiace Tipo una volta Non c'era Il reparto multiplayer E quindi Sai una volta Avevi meno cose Da controllare La grafica Era diversa Il suono era diverso Oggi si ricerca sempre Il massimo del realismo Il massimo della grafica Quindi Io ricapisco tantissimo I sviluppatori Io gli sviluppatori Non mi permetterei mai Di dire che non sanno sviluppare Dico soltanto Che c'è un controllo qualità Se proprio vogliamo parlare Di controllo qualità Inferiore Rispetto a quello di una volta Una volta Il controllo qualità Secondo me Era diverso Una volta Ci si teneva di più All'immagine Che la compagnia dava Cioè una compagnia Doveva essere una compagnia Che faceva bei giochi E quindi Doveva dare quell'immagine Di giochi Sempre Una sola cicatrice Su un gioco Poteva segnare la compagnia Oggi diciamo Che non c'è più Questa Questa Tendenza Diciamo che Casi clamorosi Come Ubisoft Che Io adesso parlo Probabilmente ci saranno altri Io chiamo sempre in causa Ubisoft Che fa un sacco di giochi E anche abbastanza buoni Però Mi viene in mente Assassin's Creed Quando è uscito E c'erano i personaggi Senza faccia Per chi aveva AMD Allora io dico Ubisoft voleva favorire Allora lo devi scrivere Noi favoriamo GeForce E quindi non vogliamo Che i nostri giochi Vengano giocati Su piattaforme AMD Però se tu sei Una casa Intanto ho tolto i piedi Da l'acceleratore Perché tanto c'è il class control Se sei una casa così grossa Il minimo Che devi fare È provare il gioco Su almeno Una decina di piattaforme Che vadano Da un minimo A un massimo E invece Questa cosa Secondo me Non viene fatta Secondo me Tutti i giochi Vengono provate Su piattaforme Estreme Un i7 Con una 1080 Ti anche E tu in quel caso lì Non stai rispiecchiando più Il giocatore medio Infatti questa è una cosa che Dovrebbero studiare meglio Cioè tu devi fare il gioco E poi questo gioco Lo devi provare Su diverse piattaforme Perché Gli strumenti per provarlo Ci sono Ci sono le beta Le beta accesso adecipato Le closet beta Ci stanno Queste possibilità E non vengono sfruttate Non vengono colte Non vengono Non vengono Sfruttate Sì dai Diciamo sfruttate Proprio appieno Dai Dai sviluppatori Comunque Vedo che davanti a noi C'è un incrocio Noi stiamo andando così Abbastanza simpatici Abbastanza allegri Ci portiamo Verso la nostra destinazione Qui c'è una curva Un po' Un po' Ballerina Però non c'è Uh caspita Uh No no Ma non c'è nessun Uh caspita Devo frenare Non c'è Ma nessun funzionamento È la curva È la curva Scusi Superiamo la macchina Ciao macchina È la curva È curva È la curva Fatta Va fatta Che faccio Vado dritto Io questa cosa qui Non la capisco Quando mi dicono Ma il funzionamento sterzo Perché devo dirmi O stai andando troppo veloce in curva E allora mi devo dire Guarda che stai correndo troppo Per essere una curva E allora potrei anche capirlo Ma che se tu mi dici Ma il funzionamento sterzo E io questa cosa non la capisco Questa cosa non lo capisco Allora mettiamoci qua Dobbiamo farci altri 92 km Io dovrei avere lo zoom del navigatore Ok 1 2 E 3 Ok La strada è molto libera Quindi riesco anche ad andare Riesco a liberarmi E a scivolare Che è una bellezza Quindi non ho di questi problemi Ok Siamo ripartiti dal semaforo Continuiamo la nostra strada Ci ha messo 3 quarti d'ora questo semaforo Quindi ho preferito tagliarlo Senza star lì ad allungare L'attesa È inutile che stiamo lì Ok Il limite di 70 è finito Possiamo andare anche ai 100 Quindi continuiamo così Io spero che vi sia piaciuta anche questa Questa livrea E che soprattutto Abbiate visto i film Li abbiate apprezzati I film sui Minions Quindi cattivissimo Il film Minions Ma anche cattivissimo A me è uno dei cartoni Comunque Diciamo che ci sono un sacco di cartoni Che stanno uscendo nuovi Che mi piacciono tantissimo E i cartoni che escono Con le grandi Perché se non sbaglio È della Pixar Ma che si ribalta Tu sorella si ribalta La Pixar fa dei gran bei cartoni Perché se non sbaglio La Pixar non è il primo cartone Che La Pixar non è Una casa da due soldi Che butta lì un cartone Ci sono grandi successi Pixar Se non sbaglio Anche Monster & Co È un successo Pixar Adesso io ho visto Io i cartoni animati Secondo me Il cartone Non ha mai età Poi ci sono gente che dicono I cartoni animati sono per bambini Ma sti cavoli Secondo me i cartoni animati Sono per tutti Sono E sono sempre L'animazione A me piace A me piacciono i film d'animazione Quindi Cattivissimo Monster & Co Che poi hanno anche delle Delle parti Più Più Nascoste Ma più Diffici da interpretare Quindi Non è che il cartone Solo salta Scadi Ridi E ciao C'è anche Monster & Co Io adesso prendo Monster & Co Che è un cartone Che secondo me Di un notevole Di un notevole Notevole Che vuol dire Di una notevole caratura Monster & Co Se voi lo guardate Quanto è bello Quanto è bello Quel cartone lì L'affetto fra un bambino E il suo mostro A me piace A me piace L'affetto che c'è fra un bambino E un mostro Che comunque è Monster & Co Che non è il mostro Che lo spaventa Anche la ricerca Che gli spaventi Un sorriso è più bello Dello spavento Questo è secondo me Un messaggio che c'è Che io almeno Ho tratto dal film Che non c'è scritto Da nessuna parte Però Un sorriso Fargli ridere È più bello Che fargli urlare Questa è una cosa bellissima Che non tutti colgono E non tutti Riescono a vedere Nel film Però a me piace tantissimo Quella è una cosa Che a me piace tantissimo È Ci sono dei cartoni Che ti fanno riflettere Secondo me Il cartone Così come il film Deve servirti a riflettere Ci sono dei film bellissimi Adesso ve ne tiro uno fuori Le ali da libertà Chi ha visto Le ali da libertà Quanto è bello Le ali da libertà Le ali da libertà Secondo me È anche Se voi andate a guardare Su IMDB È uno dei film più belli Se non credo E credo di non sbagliare A dire che sia il film Con il voto più alto In assoluto Su IMDB Quanto è bello Le ali da libertà In top 250 È il primo Tu lo guardi Quel film Sì È bello Cioè È un film Che ha Tante Tante storie A me piace A me piace Non ci posso fare niente Se è una cosa Mi piace Mi piace Quello lì È uno dei film Dei miei film preferiti Insieme a Matrix La serie di Matrix A me anche se dicono Che è il primo È più bello del secondo Queste cose qui Io non guardo mai Se io guardo una serie Se la serie mi piace Mi piace tutto Magari può essere Meno coinvolgente Del primo Ci può stare Ci può stare Perché poi Da si va a gusti Però se una serie mi piace Mi piace con i suoi alti Con i suoi bassi Non puoi prendere solo gli alti È come un rapporto Con una persona Tutti i rapporti con le persone Hanno alti e bassi Sempre Sempre Non esiste un rapporto Che hai solo a Cioè esiste È difficile Però hai alti e bassi Con tutti È una cosa normale Secondo me E quindi io Di una serie tv Cioè di una serie Di una serie Non tv Di film Se tu ami quella serie La ami con i suoi alti Con i suoi bassi E io sono fatto così Amo 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 sempre Amo tutto Allora comunque Ci stiamo arrivando Ci stiamo avvicinando A Freiburg Freiburg Non so come si pronuncia Spero che la pronuncia Si è perfetta Penso proprio di sì Tanto sono quattro lettere Vabbè non lo so Magari Freiburg O Freiburg Non lo so Barg Comunque cerchiamo Ci sono alberi caduti in strada Qui non è la zona proprio Delle più sicure Dove correre con l'autobus Io intanto mi tengo un po' più Un po' più Al centro Perché qui c'è Uno zig zag Non è Non c'è Forse si lamentano Perché guido troppo forte Uh qua devo frenare Uh caspita Freina Ok vedete qua Vi cambia Troppo velocemente Vi cambia Che cos'è Non mi dai neanche il tempo Di Di gestirmi la frenata Non mi dai Ok freina 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 Oh perfetto Quindi 16 km da Freiburg Intanto che c'è questa fermata Mi fermo un attimo Possiamo ripartire Vi taglio questi semafori Che sono veramente lunghi E non capisco Perché sono così Estremamente lunghi Eh Così eccessivi Perché qua è pieno di semafori Le città sono pienissime Di semafori Semafori anche di Eh Difficile comprensione Comunque qua dobbiamo andare dritti Quindi non ci preoccupiamo troppo Loro girano Noi invece andiamo Belli che dritti E chi se ne frega Allora Intanto sto guidando solo con il piede destro Non so perché Il piede sinistro che faccio Ma lo dimentico Vedi qua Eh Altro semaforo Ok possiamo ripartire A semaforo Intanto ve lo faccio vedere un po' da fuori Quanto è figo Quanto è figo Guardami dentro Io vorrei tipo Una mod che mi permettesse Quando mi fermo I semafori Eh Di uscire direttamente Sulla videocamera esterna Poi quando riparto Ritorno a videocamera interna Così potrei farvi vedere In automatico La La skin In automatico Comunque Allora andiamo di qua Di qua non c'è nessuno Quindi posso anche stringere Quindi qua c'è una bella cittadina Si va a 50 Quindi rallentiamo Rallentiamo Ok Come passa il pulmon Diventa 50 Mettiamoci qua Noi dobbiamo andare dritti Quindi aspetta Aspetti scusi Devo passare Quindi andiamo di qua 50 all'ora Quindi non possono lamentarsi Qua si va dritto Si deve andare ancora dritto Però il semaforo è ancora Uh caspita Devo andare da questa parte Devo andare da questa parte Per quella va solo destra Ripartiamo Intanto iscrivetevi E lasciate un like Non so se ve l'ho già detto Ma ve lo ridico Rientriamo all'interno Ok Mi devo mettere qua Sulla sinistra E caspita Qui è pieno di semafori Cioè pienissimo di semafori Io non ho capito La scelta di questo gioco Di avere semafori Così poco dinamici E così tanto stressanti Perché Non è che aggiungono Veramente tantissimo Alla simulazione Intanto lo guardiamo così Quanto può essere figo Quanto può essere figo Il mio Il mio Come si chiama Il mio autobus Ok finalmente Quindi ritorniamo Ok Giriamo di qua Dico non c'è nessuno Quindi me la posso prendere Anche un po' più larghina Quindi curvetta 5 km dalla fermata Quindi noi dobbiamo andare Alla nostra fermata Non corriamo troppo Perché loro si lamentano sempre Già basta che fai 20 km in più Per loro Oddio oddio Stiamo morendo Non state morendo Io sono un pilota professionista Non so se lo sapete Ma io ho guidato anche Macchina da formula 1 Virtualmente Però Che se freg Loro mica devono sapere Se è virtuale o meno Quindi giriamo di qua Ops Ok Il semaforo Caspita era rosso quel semaforo Mi sa che era rosso Era completamente distratto Era completamente distratto Stavo guardando Però mi sa che era rosso E un altro semaforo E la giornata dei semafori oggi E la giornata dei semafori Guarda Ma ci metto il freno a mano Ok Ok è giallo Ripartiamo Quindi fammi tornare all'interno Uh caspita Premuto troppo Premuto troppo Ok perfetto Ho fatto un po' di casino Con le visuali Qua c'è un altro Di quei dossi Che già abbiamo incontrato Che mi fa muovere Ecco Per esempio Il dosso è simulato No non c'è nessuno Ma si funziona Questi qua sono tutti sauriti Comunque Il dosso è ben simulato Il dosso c'ha il force feedback Tutto il resto Non c'ha il force feedback Andiamo fin qua Ok Ok fermiamoci Eh sì lo so Tu sorella dove prendere esempio Apriamo qui Apriamo le portiere Scendiamo anche noi Perché dobbiamo scendere Ad aprire Un minions Ok Questo qui si sta aprendo Guardiamo loro Come se ne vanno Lo vedi qua C'è sempre qualcuno Che vola via Volo via Ok Allora Prendiamo il telefono Facciamo esci Siamo arrivati a destinazione Quindi ci darà il punteggio Per vedere quanti Quanti punti abbiamo fatto Io spero che questa puntata Vi sia piaciuta Se vi è piaciuta Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi Al canale Se ancora non siete iscritti Di condividere il video Se potete E noi ci vediamo Nelle prossime puntate Ciao Ciao